I nostri atleti sono pronti, aspettiamo il passaggio dell'ultimo Eccoli in posizione, si stanno mettendo in movimento, attenzione Vado io al via Lunga credici che a 100 metri andiamo al via Ecco la seconda gara della giornata Tutti in posizione Tutto libero? Posso andare via? Ok via si parte vai